Allora, Sonia, Vinicio, questo film fa riflettere sull'importanza del teatro e sottolinea anche la differenza che c'è tra l'essere attore e fare l'attore. Secondo voi in cosa risiede la differenza e quali sono le caratteristiche che deve avere un buon attore? Essere attore? Ci vogliono due anni per rispondere a questa cosa. Non lo so, a me hanno insegnato che un attore dovrebbe cercare di essere e non di rappresentare. Quindi la differenza è tra qualcosa che nasce onestamente dall'interno e qualcosa che invece vuole essere dimostrativo, generalizzando. Poi ci sono degli attori, delle attrici che riescono ad essere credibilissimi e credibilissime anche non lavorando per niente sul proprio interno, diciamo. Non lo so, è un mistero, è un grande mistero, è un fascino, una fascinazione che qualcuno, qualcuna riesce a creare, qualcun altro no. C'è la tecnica che aiuta, però non c'è un segreto. Penso che se ci stiamo interrogando su questa cosa da 2400 anni un motivo ci sarà. Nella storia, nel film, per i detenuti il teatro è un'occasione, il fare teatro, provarsi con dei personaggi è un'occasione. Quindi è una cosa che colgono prima come un diversivo e poi però molto velocemente capiscono quanto può essere forte per loro. Anche perché in una realtà, quella che loro vivono, così estrema, le emozioni sono anche estreme, quindi quello che tu puoi mettere in gioco, che poi è il cuore del fare per noi, è diretto, è molto concreto. Quindi da questo punto di vista, secondo voi, il teatro può essere un barco per una società più inclusiva? Mettersi nei panni dell'altro, che è quello che cerchiamo di fare tutti i giorni noi e penso sia il primo esercizio della democrazia, dell'ascolto sicuramente. Mettersi nei panni dell'altro significa preoccuparsi ed interrogarsi sulle motivazioni che spingono gli altri a compiere qualsiasi azione, qualsiasi gesto, significa non giudicare aprioristicamente, ma guardare le cose da più punti di vista. Quindi assolutamente una delle battaglie che stiamo portando avanti con Unita è proprio cercare di far sì che l'insegnamento del teatro nelle scuole diventi proprio una materia obbligatoria, come la matematica o come l'italiano. La cultura passa anche attraverso di questo, passa anche attraverso l'educazione, alla curiosità, all'uso dell'immaginazione e a non essere, come dire, ipnotizzati da immagini che arrivano da altri, ma far sì che noi stessi possiamo creare attraverso la nostra fantasia. Ecco Sonia, in conferenza giustamente Vinicio faceva notare come gli attori che fanno teatro, in qualche modo non abbiano magari il giusto riconoscimento. Tu hai vinto, diciamo, da poco il premio Ubu. Se fosse stato secondo te un premio per il cinema sarebbe stato diverso? Sicuramente avrebbe avuto più visibilità mediatica. No, scusate, scusate, sicuramente avrebbe avuto più visibilità mediatica e quindi più visibilità in assoluto. Lo spazio che ormai viene ricavato nei giornali, ma tu lo sai meglio di me, insomma, per quello che è il teatro è quasi inesistente. Credo uno spazio che a mia memoria prima era molto più importante e si è sempre più ridotto. Questo però non è in relazione con quello che è invece il peso e la portata per come viene vissuto dal pubblico, dal teatro. Perché il teatro non è affatto morto, il teatro è vivissimo, anzi gode di ottima salute. E c'è un pubblico vivo in Italia e molto vario. Quindi non c'è un piagnisteo sulla disperazione. Il teatro sta benissimo, ma sta benissimo malgrado l'incuria della politica che dovrebbe dare uno spazio maggiore al teatro come bene comune e popolare. Grazie mille. Grazie.